ciao ben ritrovati sul mio canale le cronache della bellezza come state spero che sia tutto ok allora con questo video mi sono un po divertita ho voluto infatti farvi vedere quelli che sono stati i miei acquisti le mie scoperte c'è anche qualche piccolo regalino perché ho compiuto gli anni il 21 novembre e un po di spese anche sotto il black friday quindi dopo il video della scorsa settimana dedicato interamente alla skin care oggi parleremo un po meno di skin care e un po più di trucco e di acquisti in generale partiamo subito andiamo abbastanza a caso infatti qui ho due diciamo postazioni scusate ho toccato il microfono qui ho diverse cosine tra cui una pochette che vi voglio far vedere subito partiamo da questa allora questa è una pochette che mi è stata omaggiata nel negozio di Yves Rocher io amo i prodotti Yves Rocher sono anche stata consigliera di bellezza però il mio problema è che adesso non ho più sotto casa il negozio come insomma fino a poco fa o a poco tempo fa era perché hanno deciso di chiuderlo quindi devo andare in centro nella mitica via 20 settembre di genova per chi è di quelle parti e visto che io non bazzico spesso da quelle parti ci devo andare appositamente mi viene un po scomodo ma veniamo noi allora che cosa ho fatto visto che avevo un regalo per il mio compleanno sono andata immediatamente prima che mi scadesse e credo di averlo messo qui perché come voi sapete sono un po confusionaria e spargo le cose era un mascara e ve lo voglio far vedere perché l'ho applicato e mi è piaciuto molto eccolo qui è una versione chiaramente mini molto carina però è intense metamorphose questo è il mascara di Yves Rocher che mi è stato regalato per il mio compleanno vi faccio vedere com'è lo scovolino da volume come vedete uno scovolino che se ne intende in quanto a volume però ho notato che da anche la definizione quindi mi sta molto piacendo l'ho messo due volte per ora perché sono andata questa mattina a fare shopping e l'ho messo due volte subito da metto un attimo in macchina l'ho voluto provare poi sono rientrata e l'ho messo di nuovo quindi questo per me al momento è una prima impressione chiaramente però è veramente un buon prodotto che ho scoperto poi avevo la possibilità di acquistare anche un prodotto al 50 per cento anzi sapete com'è che quando siete in negozio vi dicono se vuoi anche quella cosa ce l'hai al 40 perché c'erano due promozioni in contemporanea quindi per farvela breve ho comprato un prodotto al 50 per cento che è il siero anti age poi ho comprato questa rich cream latte corpo anti età nuovamente al più o meno 50 per cento e insomma un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo che è un rossetto liquido rouge elixir che sto indossando adesso ditemi se vi piace a me piace moltissimo ho voluto un po' scavalcare il nude rosino nude che avevo allora andiamo con ordine questo è fa parte della linea riche cream ed è un latte corpo rigenerante nutrizione intensa con olio di mille rose e 30 oli preziosi quando la commessa me l'ha fatto provare e l'ha appunto messo sul dorso della mano ho notato una consistenza inedita allora vediamo subito intanto il profumo di rosa delicato ma meraviglioso ed è seta ragazzi seta seta pura sembra di applicare cashmere veramente morbido e lascia la pelle profumata di rosa in modo delicato ma ragazze dovete dovete provarlo il dorso della mia mano è seta garantisco una grande scoperta mi sta piacendo tanto poi lo applicerò sul corpo per ora sono riuscita solo applicarlo sul dorso della mano quindi questo è il latte corpo poi ho anche preso come vi ho detto il rossetto e mi è stato anche omaggiato un lip oil no un gloss andiamo con ordine il rouge grand rouge l'elixir che ho acquistato io è il numero 108 qui vi faccio un piccolo swatch ma lo potete vedere sulle mie labbra comunque questo è il colore e l'ho voluto acquistare perché se vi ricordate in un video di qualche tempo fa non troppo vi avevo detto che avevo riscoperto questo rossetto e che aveva un'ottima durata che mi durava veramente tanto senza dare il minimo di sconfort sulle labbra molto meglio addirittura di quelli di astra proprio il migliore in assoluto per quanto mi riguarda quindi un grande acquisto e ne sono felice fiera lo metterò credo tutti i giorni poi una nuova uscita di ivroché è questo rouge l'elixir gloss questa è la mini confezione che mi è stata data l'ho già applicato sulle labbra ha un colore rosso rosso ma non è affatto inconsistente cioè non so come descrivervelo ma quel rosso corposo quindi quando voi lo applicate vi si come posso dirvi mi si appoggia sulle labbra e li rimane cioè non ho notato che vada via come tanti altri li poi lo gloss è proprio come un lip gloss che rimane chiaramente devo testarlo devo provare ad applicarlo e vedere quanto dura ma ero in casa l'ho messo due orette c'è stato quindi poi l'ho tolto per truccarmi però ecco questa è un po la mia diciamo idea di questo prodotto quindi per quanto riguarda ivroché mi sembra di avervi detto tutto anzi no non vi ho parlato del mitico anti global anti age global il concentrato bifasico rigenerante notte al aspettate parla di un concentrato di gemma questo siero notte va prima agitato perché bifasico e poi applicato la sera prima della crema o anche da solo guardate com'è liquido cioè scivola immediatamente ma vi lascia una con una consistenza cioè proprio un è veramente un olio un olio liquido non saprei come descrivervelo e lascia anche un profumo delicatissimo buonissimo e la pelle davvero è come se fosse rigenerata perché si sente quest'olio che penetra immediatamente perché è un olio molto liquido e quindi la pelle lo beve lo assorbe veramente quindi lo proverò vi farò sapere quindi questo era l'ultimo acquisto dai brochet poi ho fatto acquisti sparsi e veniamo a noi fondotinta mi sta piacendo tantissimo è la mia prima volta con a cor parfait l'oreal magari voi chissà quante volte l'avete provato perché non è di certo un fondotinta nuovo ma per me lo è quindi mi fa molto piacere potervene parlare è un fondotinta che va chiaramente shakerato come tutti fondotinta prima di essere applicato ma io noto che con la skin care che sto facendo attualmente che è la skin care coreana avrete modo di vedere il mio video ve lo linko magari oppure alla fine di solito l'ultimo video viene ripresentato di default da youtube a questa consistenza cremosa ma leggera ma al tempo stesso coprente al punto giusto che mi fa sentire la pelle radiosa quindi io questa copertura della pelle già dal mattino radiosa molto luminosa trovo la necessità per il mio angioma e chiaramente anche per le occhiaie di passare il correttore giustamente però come base viso la trovo eccezionale soprattutto poi se non volete coprenze e pastosità è meraviglioso sì è vero che si matcha molto bene col colore della pelle è proprio è proprio dotato come di microsfere che si spezzano e vi donano luminosità ecco vi do proprio la mia esperienza sensoriale quello che io appunto provo quando lo applico e mi piace davvero tanto chiaramente mi piace idratare bene la pelle quando lo applico come con tutti i fondotinta però non è un fondotinta che secchi di certo non è come il fondotinta che io amo transformist di astra è molto più lieve molto più sieroso poi ho acquistato e qui abbiamo già un prodotto che non mi sta convincendo formula pura questo mascara di debora milano che c'è scritto è anche per occhi sensibili e si strucca anche con acqua allora la cosa che non mi piace molto è che mi sembra che venga via pezzettini gli occhi non mi hanno dato un fastidio particolare ma non ho neanche trovato quella differenza pazzesca con altri prodotti e quindi vi dirò non ne vado matta ho già adottato subito il mascara che mi hanno regalato per il mio compleanno di crochet che vi ho fatto vedere poi altri acquisti che ho fatto li ho fatti da OVS e si tratta di due prodotti per labbra di Essence che mischio perché mi trovavo fuori casa e dovevo andare a una riunione di lavoro avevo zero rossetto mi sono ritrovata a scegliere di frettissima ho preso questo ma è troppo chiaro per me 03 soft beige che è questo colore vediamo se riesco a farvi vedere aspettate questo è il colore che ho preso soft beige che per la mia carnagione è troppo chiaro allora cosa faccio lo mixo con il silky hazelnut che è lo 02 lo mixo con il silky hazelnut 02 che vi sboccio qui e viene veramente una combo perfetta ora qui ve li ho messi uno fianco all'altro ve li voglio far vedere proprio uno fianco all'altro questo è il risultato diciamo dei due colori accostati perché ve li voglio fare vedere uno e l'altro voglio farvi vedere la differenza tra i due ma io li mixo devo dire che dura il rossetto liquido dura davvero e non mi dà una sensazione di discomfort risulta un po polveroso ma per me va bene non mi dà fastidio e dura quindi sono contenta altro acquisto questo profumo vi ricordo che se li trovo vi lascio i prodotti che vi faccio vedere in infobox mora e muschio di elan mi era stato consigliato da diversi negozianti dai quali andavo per trovare il famoso profumo alla mora del quale ero rimasta diciamo vedova dopo aver saputo che bottega verde non faceva più il suo ebbene mi piace molto mi piace molto è un profumo discreto ma al tempo stesso buono gourmand fine fine ecco delicato ma alla giusta intensità quindi è veramente promosso e mi sta piacendo tanto un altro acquisto che ho fatto lo stesso giorno scusate faccio un po' avanti e un po' indietro in cui sono andata all'ovs per acquistare rossetto liquido di essence è stato questo correttore come vedete multitask concealer erase cover and care che trovo sia ottimo 20 natural beige il colore che ho preso come vedete a rotazione a questo pennellino che fa sì che voi possiate applicarlo davvero a livello di precisione e me l'ha fatto amare da subito proprio perché soprattutto per questa zona o queste zone io ho potuto applicarlo tamponare e sparisce immediatamente ve lo consiglio caldamente costa 4 euro mi sembra e mi piace moltissimo lo sto usando tutti i giorni soprattutto ecco la cosa che mi piace che lo posso portare con me per i piccoli ritocchi perché è proprio dotato di questo pennellino quindi questi altri prodotti ve li ho mostrati vi faccio vedere anche questa matita labbra che avevo trovato consigliata mi sembra dalla mitica giulia cova è una matita labbra color nude che vi swatcho qui molto molto carina lo applico anche su tutto il labbro su tutte le labbra tutta la bocca metto un velo di gloss e vi assicuro che il risultato eccezionale lascia quel nude che non è né troppo caldo né troppo freddo per per me diciamo per la mia carnagione ma mi sembra un nude davvero universale ottimo ideale e quindi un gran promosso un gran promosso una gran scoperta ho anche provato il fondotinta lifting di bio nike defense color lifting fondotinta anti age qui c'è l'altra bustina mi è piaciuto è in versione semi non è liquido è cremoso ma non è pastoso sto considerando la possibilità di acquistarlo vi posso dire la mia prima impressione positiva non è a livelli eccezionali dunque l'avrei preso immediatamente ci sto pensando però perché non mi dispiace c'è lo sconto in questo periodo poi ho ricevuto dai mitici ufficio stampa di lr wonder company guardate che cosa fantastica acido ialuronico e collagene marino questa è una riserva incredibile di idratazione c'è questa siringa che si riempie voi togliete poi la siringa una volta che avete preso il vostro acido ialuronico ora io l'ho usata quindi non ce n'è più giustamente vi faccio vedere la mettete tuffate tirate su e avete io non lo voglio sprecare sono sincera vi faccio vedere un ciccinin il vostro acido ialuronico bello polposo bello denso non è affatto liquido ragazze è di quello forte ve ne basta poco è super concentrato concentrato ed è una favola è una meraviglia quest'acido ialuronico infatti lo aggiungo un po' sopra il fondotinta un po' sotto lo mescono insomma è eccezionale a volte ci faccio tipo gli impacchi prima di andare a dormire chiaramente lo lascio non lo tolgo quindi super 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 promosso ho anche ricevuto questo integratore fra cui c'è collagene ma anche acido ialuronico e c'è anche un complesso quindi abbiamo lo zinco la vitamina b6 il rame il poligonum è al sapore di mela buonissimo pronto da bere mi è piaciuto lo sto assumendo e chiaramente voi lo sapete che gli integratori di questo tipo con acido ialuronico dovrebbero fare bene anche soprattutto per gli occhi io ne ho bisogno per la vista per le ossa le cartilagini insomma lo sto assumendo molto volentieri e poi vediamo se ho dimenticato qualcosa no non ho dimenticato in realtà sto cercando di recuperare tutto ciò che mi sta sfuggendo più due prodottini uno è brisalte verde che è una profumazione che adoro che mi mancava da tempo per cui sono riuscita a riacquistarla da sbraccia l'ho trovata in promozione diciamo ora non costava di certo un euro e cinquanta neanche due però mi ha fatto molto piacere poterla riprendere e rimaniamo sul leitmotiv olfattivo perché ho ricevuto per il mio compleanno questo profumo meraviglia questo ragazze è un profumo eccezionale posso dirvelo il mio profumo preferito forse dopo forer classico di narciso rodriguez chloe questo chloe sono certa che voi lo conosciate benissimo non riesco ad aprirlo perché ho ok ragazze lo adoro lo adoro è un profumo delicato fiorito ma anche un po gourmand che mi fa sentire subito in un giardino di fiori bianchi e anche un po rosa e mi fa viaggiare con con la mente mi piace mi fa bene all'umore ne ho bisogno e tutte le mattine prima di uscire andare al lavoro nei spruzzo due due spruzzatine qua e qua mi piace veramente tanto credetemi io non so se voi lo avete con lo conoscete penso di sì perché famosissimo io l'ho scoperto tardi perché mi è stato appunto regalato però se non l'avete ancora provato vi piacciono comunque i profumi floreali andate in profumeria e annusatelo perché vi garantisco che è davvero molto buono fatemi sapere se voi avete provato questo profumo se vi piace quali sono i vostri profumi preferiti anche voi amate chloe amate narciso rodriguez forer avete fatto acquisti per il black friday ecco io aspetto i vostri commenti come sempre chattiamo giù nei commenti vi ricordo che nell'info box che lo spazio che trovate sotto al titolo trovate un po di cosine i prodotti ve li linko quelli che trovo chiaramente e vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per aumentare la numerosità della nostra bellissima community grazie per essere stati con me ci vediamo la settimana prossima ciao